Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono contento, ma sono sicuro che il rispogliatoio non ha questa ripartizione, questa differenza. Sono sicuro che lì sono tutti amici e hanno tutti gli stessi uniti. Fa tutto il rispetto della gente. Se non mi vuole bene, non mi deve far male perché non mi vuole bene.